Ophelia Malinov pronta per una nuova avventura all'estero, un'occasione per brillare oltre i confini italiani. La talentuosa palleggiatrice italiana Ophelia Malinov si prepara per un'emozionante nuova tappa della sua carriera. Dopo esperienze significative con squadre italiane come Conegliano e Scandici e attualmente con Chieri, Malinov sta per intraprendere una nuova sfida internazionale con lo Zeren Sport. Per Malinov questa sarà la prima esperienza all'estero, un passo audace che promette di portare le sue abilità e il suo talento a nuovi livelli. La 28enne palleggiatrice ha dimostrato il suo valore nelle competizioni nazionali italiane, ma ora è pronta a testarsi in un nuovo contesto e confrontarsi con avversari internazionali. Accanto a Malinov, Zeren Sport ha anche arricchito il suo roster con due schiacciatrici di talento provenienti dalla Serbia, Aleksandra Ulzek e Bracica Mijailovic. Queste aggiunte potenziano ulteriormente la squadra portando esperienze e competenza nel reparto d'attacco. Inoltre c'è grande speculazione attorno alla possibile inclusione nella squadra della centrale turca Ackman, il che aggiungerebbe ulteriore forze e profondità al roster di Zeren Sport. Per Malinov e le sue nuove compagnie di squadra, questo rappresenta un'opportunità unica per dimostrare il loro valore su una nuova scena. Con il sostegno della loro esperienza e del loro talento, Zeren Sport si prepara a competere ai massimi livelli, sia a livello nazionale che internazionale. L'arrivo di Malinov e delle altre nuove reclute aggiunge un'area di eccitazione, anticipazione alla stagione imminente. I tifosi dello Zeren Sport non vedono l'ora di vedere cosa riserverà il futuro per la loro squadra, mentre Malinov e le sue compagnie di squadra si preparano per una nuova e affascinante sfida che li ha tritta all'estero.